Ciao a tutti ragazzi, sono Filippo di New Bike e oggi inizia il momento più atteso dell'anno, ovvero inizia la serie TV Less Money, More Happiness. In cosa consiste? Consisterà in 5 episodi in cui vi presenteremo le biciclette che secondo noi sono il miglior rapporto qualità-prezzo. Ovviamente le trovi solo da New Bike. Il primo episodio riguarda la bici Cuba Tension SLX, montata con cambio monocorona a 12 rapporti Shimano XT e freno di disco idraulico Shimano. Infine, montata con una forcella ad aria RockShox Judy, bloccabile e sbloccabile da manubrio. E tutto questo potreste averlo a soli 1149€. Finisce così la primissima puntata della nostra serie TV. La prossima bici la stiamo già preparando, sei curioso di sapere quale sarà? Resta sintonizzato, New Bike Reggio Emilia, ti aspettiamo!